buongiorno oggi parliamo della strategia aziendale e del perché sia utile utilizzare dei modelli per la strategia aziendale quando vengono da me degli imprenditori di solito hanno molti problemi ma il problema fondamentale è capire l'origine del problema può sembrare semplice ma non è affatto così cioè molto spesso le persone arrivano ponendo delle affermazioni del tipo ho bisogno di denaro per esempio che è un'affermazione magari non detta in termini così semplici no cioè fare fundraising aziendale se volete possiamo parlare in termini più complicati ma in sostanza raccogliere del capitale o di debito o di equity o di near equity cioè con varie forme di capitale per l'impresa oggetto della trattazione ma molto spesso non si tratta di questo molto spesso magari si tratta di fare una nuova impresa e magari quella nuova impresa la si vuole fare con dei soggetti che magari sono dei familiari o magari parenti di nostri familiari che quindi a nostra volta sono parenti acquisiti per esempio cognati cose di questa natura oppure ci sono dei problemi di passaggio generazionale insomma le possibilità degli argomenti che possono riguardare i problemi profondi di un'impresa che non sono mai andare in banca o fare un business plan sono molteplici allora cosa servono i modelli in strategia ecco voglio affrontare un ciclo di brevissime pillole lezioni brevissime su questo tema per parlare agli imprenditori sul perché quando si siedono ad un tavolo con me dopo un po' cominciano loro stessi a scrivere in termini schematici a rappresentare la propria realtà in termini schematici a disegnare la propria impresa recentemente un imprenditore a un certo punto io ero in videoconferenza gli ho chiesto di alzarsi di andare alla lavagna che era nello studio dove si trovava dietro di lui era stata predisposta una lavagna e gli ho chiesto di disegnare la sua azienda e lui ha disegnato tutto disegnato il layout produttivo disegnato come pensava il nuovo magazzino i nuovi spazi le nuove macchine ecco naturalmente questo è un esempio molto sciocco se volete ma importante perché in quel momento che noi parliamo di una società di consulenza che noi parliamo di una società di produzione come in questo caso di generi alimentari che noi parliamo di una commerciale di una società turistica qualunque imprenditore ha nella sua testa il progetto il mio compito come consulente è quello di aiutarlo a focalizzare ciò che ha già dentro di sé questa è la grande differenza tra chi si presenta a fare consulenza conoscendo quattro sciocchezze e chi ha un bagaglio di tanti anni di esperienza e magari tanti errori alle spalle propri allora perché i modelli vedete i modelli hanno una caratteristica fondamentale un conto è disegnare un layout un conto è usare un modello ben preciso un modello strategico cioè i modelli come prima caratteristica hanno questo sono semplificatori semplificano la realtà la rendono più semplice ora il grande vantaggio dell'usare modelli e io durante l'attività di consulenza ne propongo agli imprenditori diversi alcuni classici che sono quelli che io insegno in università altri invece di mia diciamo invenzione che invece ovviamente sono riservati per la mia attività di consulenza e derivano dalla mia esperienza della realtà cioè di consulenza presso enti pubblici comuni province regioni ministeri società partecipate pubbliche piuttosto che presso invece società private o consorzi cooperative associazioni di categoria confidi questa esperienza mi porta ad utilizzare il modello giusto nella giornata giusta cioè quando parlo con l'imprenditore in funzione di quello che mi dice io scelgo un modello differente tra le decine decine di modelli che uso scelgo quello che in quell'istante mi sembra utile ce ne sono centinaia di modelli strategici utilizzabili ma il modello deve semplificare la realtà e seconda caratteristica di questo prima brevissima concetto sull'uso dei modelli deve discernere nella realtà le cose marginali dalle cose fondamentali quindi il primo obiettivo della consulenza strategica è ok ci sediamo un tavolo lasciamo perdere ciò che non è importante scusatemi sembra di secondaria importanza ma è importante escludere le cose non importanti questa è la prima funzione di un modello togliere dal tavolo di discussione le cose marginali de minimis non curat praetor cioè l'uomo importante non si cura delle cose non importanti ci vediamo alla prossima grazie a tutti